non ti desisti senza scapparmi senza volare le gacche verso sinistra 1,2 bravo così vieni lungo stai lungo fai il desist questo cancio questo cancio il primo tre canci verso lungo sinistro giugato via vieni va in giro con la mano in giro vai un po' da me cancio piano trattate lungo sinistro sinistri sinistri via faccio scogliare la brava di tutto vieni a gomma a piume non hai toccato qua faccio scogliare la roma piume ma ho fatto il mio giugno a giocare cosa è qua muoncia 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 giugaggio si va una due ascoltami dai vai 15 i Ad ora, una, due, urro Uno, una melodia Il ordine Il ordine Sì, diva Em toda la chapa upone Dopo il trouble Bravo V submitini Vai, due Uno Con ordine лично M 아까 Stacco la testa, ma non va più perciò tanto, non devi prendere solo il tuo ammenaggio, devi prendere la macchina, perché non sai la grande allarme, c'è davanti la persona viva il dinamico che ti muove per il culo, questo è lo spirito del combattimento, è un oggetto che devi andare in testa, non devi prendere l'ammenaggio, ti prendi l'acqua e ti prendi non mi prendi l'ammenaggio, non mi prendi l'ammenaggio, è un oggetto di base, io parlo e mi difendo, parlo e mi difendo, non è che parlo, non faccio la tukamekaze veramente pure i reggi l'ha messo dai pezzi? un giorno bene, non faccio la tukamekaze, andiamo, non mi ripresti, che bello, guarda tutto il tempo che vuoi, poi ti fai un misetto, vai, via, guarda te, non mi fai un sogno felice, guarda te, guarda te, guarda te, io arrivo e tu sei pronto, è cambiato, cioè come se fanno una salvatrice, che è piccola, no? no, 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 l'ho già cambiato, questo cazzo, che bello, quello non ho preso la mia te sei preso, hai fatto giusto oggi, che bello, questo è il banco di piedi, vai, cancio contro i ganci bravissimo palo palo cancio canci soltanto pesco resisto a distanza mi raccomando pesco bene bravo così pesco contro i ganci resisto a lungo un po vai indietro il martello vai indietro il martello andiamo a boxare boxare il dietro boxare il dietro bravo e muoviti un pochino e giro muoviti un pochino e recupera non scoppia recupera e scoppia ti muovi un pochino ti muovi un pochino e recupero respiro 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 4 montanti 4 montanti andiamo spesso pesco disco pesco andiamo resisto tutta sotto tutta sopra schivo due ganci schivo due ganci andiamo proteggo proteggo schivo tre ganci via, 1, 2, 3, 3, ancora, schivo, 1, 2, 3, ancora, giù, 1, 2, 3, bravissimi, 2, 3, ancora, 1, 2, 3, bravissimi, cazzo come troppo in viso con i mazzati, cazzo come un po' altra parte della pace, e spira, e questo è un internazzi bene, vedi? questo, conosco una, questa è una domanda, non sa, Mi fa, io faccio Jiu Jitsu, mi fa l'impatto con uomini 80-85 piedi. Mi fa, senti faccio, ma dimmi cos'è, cosa sono queste lotte che hai tu? Perché io non lo so, mi chiedessi se mi accade, non so cosa come sono queste lotte. Mi schiedi? Che mi fa? Atterra lenti, stangola lenti. Sai che ci ho detto? Stangola lenti. Oh, mi fa, faccio, magari che faccio. Che dici cosa che fanno bene? Mi vedi a me. Mi chiedevi a te, tu? Eh? Mi scherzà? Deve romeiare? No, no, eh? Italiano? Siamo tutti romeiare. Italiano! Che sto sfidando, che sto, no, 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 che sto, no. Sì, sì, la mia è ignorante. Cioè... Un gioco 30 anni, gli ho appena svegliato guidato. Hai tiro? Vai, lui! Voi? Vieni, tranquillo. Veniero? Vieni, quei che? Vieni, hai stron�? Vieni, hai stron�? sulle piedi, sulle piedi, devo toccare tocchiate andrà so si si andrà le mani da qua, perché anche la mano più forte due e qua due si si